Salve a tutti e ben ritrovati al 28esimo e ultimo episodio di Victoria 2 con l'Italia Anche se in realtà non sarà esattamente l'ultimo episodio Perché questa campagna la continueremo su Arsofaron 4 Dunque, nello scorso episodio abbiamo combattuto gli inglesi Anche se non abbiamo ottenuto alcun territorio In quanto non è scattata la guerra mondiale E quindi ogni claim ci costava molto più infamia di quella che potevamo permetterci Ieri a questo punto costruiamo un po' di fabbriche Tipo una ne abbiamo fatta in Chad Adesso ne facciamo in Senegal Facciamo giusto fabbriche semplici Anche perché queste ci torneranno utili poi per la campagna Sorsofaron Ne facciamo un'altra tazza A Ubangi Shari In Western Mali Infine andiamo a far livellare le nostre fabbriche Per cercare di potenziare il più possibile A cominciare dall'Italia E quindi le fabbriche in Istria, in Lazio Così ve le voglio potenziare tutte Ne facciamo un'altra a Venezia di fabbriche Facciamo una... forse ci conviene fare machine parts a Venezia Così da un po' di busta alla benzina Ok alla fine abbiamo potenziato tutte le fabbriche Proprio per migliorare il nostro assetto industriale Vediamo un po' quanto tempo ci vorrà per queste fabbriche Eh però ci vorranno tre anni Eh no non ce la facciamo allora Forse posso puntare giusto a queste Quindi ci vogliono ferro e machine parts Vabbè quello che riusciamo a costruire Allora compriamo del ferro Abbiamo vinto intanto una battaglia dei ribelli Ah già i famosi ribelli dell'Arabia Saudita In Oman Che avevo settato nel scorso episodio Ok e poi machine parts Andiamo ad acquistare il più possibile machine parts Quel poco che riusciamo a potenziare delle nostre fabbriche Ce lo faremo andare bene insomma Ok sono partite un po' di fabbriche Vedo che però ci voglio ancora un po' di machine parts Addirittura Vediamo adesso E adesso sono partite Possiamo potenziare Beroda Fammi controllare solo se tutte le fabbriche sono partite Sì quindi questo è andato Poi potremmo migliorare magari la flotta navale Tipo con qualche altra dreadnought No In realtà sono partite tutte Non c'è proprio il tempo Costruiamo un po' di carri armati allora E di aerei Ok vediamo un po' se partono Sì vogliono un po' di small arms Aeroplani e vino Magari possiamo comprare le small arms Allora Beroda Come avevamo detto Possiamo migliorare l'opinione amichevole E andiamo a prendere le small arms Ah bene la Svizzera non è più nella nostra sfida di influenza Ah vabbè che ha 97 punti ok Potremmo proprio bannare l'ambasciata francese Sì dai Tanto poi li recuperiamo i punti per maxare la Svizzera spero Ok ci serve ancora canne food benzina e vino Allora canne food è qua E andiamo a comprare Poi abbiamo benzina e poi il vino Mi chiedo cosa serve il vino per costruire gli aeroplani Comunque fa pene Forse in realtà quotano bisogno di bere vino Andiamo un po' E mancano gli aeroplani giustamente Allora Questo non so se abbiamo tutta la produzione mondiale No ok allora li possiamo comprare gli aeroplani Cerchiamo di costruire adesso più eserciti Più fabbriche possibili Perché poi non avremo più possibilità Meglio partire adesso il più avvantaggiati possibile Per la campagna di Arts of Iron Ok sono partite tutte Manca artiglieria e i tanks E giustamente per i tank Posso comprare giusto l'artiglieria magari Almeno questo posso farlo Ok ora mancano solo i tank Che ovviamente devono essere prodotti Anche se vedo che comunque vengono venduti Quindi non è troppo preoccupante Più o meno qualche tank arriverà Invece la produzione di aerei è molto spedita Dovremmo completarli tutti entro la fine della campagna E questo mi fa molto piacere almeno Riusciremo a completare un bel po' di forti Fabbriche non tutte purtroppo Riusciremo a completarne solo una piccola parte Una pazienza C'è un'occupazione ostile a indole Qui in India Andiamo a sistemarli Ma perché poi i panazionalisti indiani Vengono su da me Ok Palla vicina è morto Palla vicina è caduto da cavallo Vediamo un po' se ci sono guerre Non tanto Bisogna fare un'altra riforma Vediamo un po' quale possiamo portare avanti La campagna per i sussidi di disoccupazione Mezzo milione di abitanti la vogliono Va bene Mewar ci chiede l'alleanza Quindi abbiamo un altro staterello qui in India Che sta passando sotto il nostro controllo Che questo qui non ce l'este chiaro Ok miglioriamo l'opinione di Aderabad Adesso è cordiale E qua mi sa che non c'è da fare Ma potenziare tutti Gli staterelli alleati Prima della fine della campagna Qualcuno lo perderemo per strada Posso al massimo cercare di migliorare Un po' di relazioni qua e là Nella speranza di Velocizzare i punti guadagnati Ci hanno tolto anche l'impero ottomano Nella sfiera di influenza Non ci posso credere Ma tutti ora nella fine della campagna Vogliono rovinarmi La sfiera di influenza Spoiler sì Per ora non mi faccio rovinare Cioè nel senso Ogni anno non so se ce la faremo guadagnare i punti Abbiamo abbastanza punti Per far ritornare l'impero ottomano Nella sfiera di influenza però Il problema secondo me è che forse Con tutti questi stati indiani Non ce la facciamo Allora io direi Togliamo un po' Quelli che non sono cordiali Perché tanto comunque non ce la facciamo adesso A migliorare a tutti la relazione Quindi la tolgo a chi non è almeno cordiale Forse è giusto Mewar perché siamo alleati Tra gli altri la tolgo Purtroppo in India siamo stati un po' sfortunati Ok L'Argentina è diventata fascista E non è più nella nostra sfiera di influenza E nonostante ciò non riesco neanche a guadagnare Chissà quanti punti di influenza Questo è un bel colpo Che intanto qui vedete che stanno continuando ad essere costruite fabbriche Magari ne posso potenziare qualcuna Ci proviamo Anche se è febbraio effettivamente Quindi non so fino a che punto valga la pena Ed è questo l'ultimo anno effettivamente del gioco Ne abbiamo festeggiato l'ultimo primo gennaio di questo gioco E tra pochissimo la nostra campagna su Victoria 2 sarà terminata Possiamo migliorare un po' gli stati nella sfiera di influenza Abbiamo Gualior Che passa a Cordiale Jaipur Che diventa Cordiale Mewar E il Bhutan Però il problema è che Ah beh in realtà ce la facciamo Con la Svizzera un po' meno Allora aspetta no Con la Svizzera stiamo andando molto a rilento Tolgo tutti i punti dove non servo Intanto io aggiungo gli ottomani alla sfera Che è quello che mi interessa di più Li tolgo a tutti gli stati in cui siamo già a 100 Comunque sono nella nostra sfera di influenza Vabbè l'Argentina a questo punto non vale più la pena investirci su Gli ottomani per il momento me li tengo Li tolgo anche al Nepal Li tolgo ad Erabad E basta Vediamo se riusciamo a guadagnare i punti sufficienti per riprenderci la Svizzera Li tolgo anche a Beroda Dai Inutile Mi interessa più la Svizzera Ok La Svizzera è di nuovo a 100 Quindi la possiamo riaggiungere alla sfera E ci hanno di nuovo tolto l'impero ottomano Questo non ci voleva Solo che noi siamo a 50 Quindi se guadagno 50 punti Ah si ce la facciamo Ne guadagniamo 1 e passa al giorno Aspetta 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 Cosa ho visto? La Svizzera è diventata fascista Abbiamo rotto anche la Svizzera Sono diventati fascisti per colpa nostra Ma come? Un popolo così tranquillo Li abbiamo rotti Sono diventati fascisti E vabbè Siamo un po' come degli elefanti in una cristalleria Devo dire Ogni cosa che tocchiamo Si rompe Abbiamo rotto il Regno Unito Abbiamo rotto la Francia Abbiamo rotto l'Austria Ora anche la Svizzera Non male Devo dire E possiamo riaggiungere l'impero ottomano Vai Bene Almeno abbiamo sistemato questa cosa Prima della fine della campagna Allora fammi bannare qua l'ambasciatore giapponese Nel Punjab Intanto Che mi sta dando fastidio Poi chi altro sta cercando di È in Peru Potremmo bannare gli Stati Uniti Vai Poi Portogallo Per il momento non ci interessa Svizzera Stanno arrivando di nuovo i francesi Quindi rimettiamo i punti di influenza Anche in Bolivia Anche in Bolivia C'è bisogno di cacciare gli statunitensi Diamo il ben servito E i giapponesi in Cile invece Anche loro Via Ok credo che adesso dovrei aver sistemato un po' le cose I russi stanno tentando di nuovo di Rimuovere l'impero ottomano dalla mia sfera di influenza Questo non mi piace Che non vorrei arrivare di nuovo al 31 dicembre Senza l'impero ottomano Per colpa dei russi Che si sono intromessi nell'impero Quindi vediamo un po' Forse in Svizzera Posso togliere momentaneamente i francesi Di mezzo Ok Adesso guadagniamo più punti dei russi Mi sa Ok siamo già al 55 Appena arriviamo al 65 Banniamo i russi E ci togliamo il pensiero Perfetto Via i russi dall'ambasciata Dall'ambasciata ottomana Vi voglio mettere i punti in Svizzera Perché non vorrei che i francesi Eh infatti si stanno subito fiondando i francesi In Svizzera Ormai mancano pochissimi giorni alla fine della guerra Il Cile cerca di conquistare con l'Argentina E Calat va in bancarotta E ormai mancano pochissimi giorni 30 31 E il gioco è finito Siamo arrivati alla fine di Victoria 2 Un secolo preciso Dopo 28 puntate È finita la nostra campagna di Victoria 2 Purtroppo ci sono ancora un po' di fabbriche Per pochissimi giorni alcune non sono terminate Ma poco male Le Dreadnoughts Ce n'è ancora qualcuna in costruzione Invece gli aeroplani e i tank Mi sembra li abbiamo completati tutti Quindi li porteremo Nella nostra campagna di Arts of Iron 4 Quindi ci gustiamo Ah no non si può muovere questa schermata Quindi dobbiamo purtroppo premere quit per l'ultima volta E questa è la schermata finale del nostro gioco L'Italia quindi è arrivata prima con 9723 punti Dietro gli Stati Uniti con 8300 punti Poi la Germania con 6256 Cina poi Giappone Gran Bretagna Francia e Russia Dietro di noi Tra le prime sedi ci faccio notare che ci sono anche Scozia Irlanda che abbiamo liberato C'è ancora l'Austria-Ungheria in qualche modo Che nonostante tutto ha resistito Nonostante ormai di Austria c'è ben poco Comunque va bene E dunque con questo E dunque con questo finisce la campagna di Victoria 2 Però farò un episodio a parte In cui vedremo le statistiche di quelle che sono state le guerre più sanguinose Nella storia di tutto il gioco Quindi vedremo quali sono state le guerre che hanno causato più morti Tra la prima, la seconda e la terza guerra mondiale Secondo me sono molto curioso di vedere quale sarà la guerra più sanguinosa Fatemi ringraziare di cuore Quei che siete arrivati fin qui all'ultimo episodio di questa serie Molto travagliata E mi scuso profondamente insomma per com'è andata Però sono contento È la prima serie che porto a termine Il che è tutto dire Ed è la prima serie da cui ho ricevuto tantissimo affetto da voi spettatori Quindi fatemi ringraziare Voi che avete commentato Voi che avete guardato questa serie E avete supportato questa serie il più possibile Io sono molto contento Sono anche un po' imbarazzato Devo dire la verità Però vi ringrazio davvero E dunque ci rivediamo per l'episodio speciale di Victoria 2 Bene Come di consueto Io vi ringrazio per il vostro supporto E lo dico davvero E vi do appuntamento al prossimo video